...d'angolo di Schillaci ed è bravo Esler ad approfittare di un'incertezza difensiva. Controlla bene il pallone Esler, cross al centro e Casiraghi di testa mette in rete 1-0 per la Juventus. Al tredicesimo ancora la Juve in avanti da Esler a Schillaci, ancora Dessler che tira e blocca con sicurezza il portiere Munarone. Un minuto dopo il Liegi che ricordiamo l'andata ha perso per 3-1 ha la possibilità di pareggiare con Kiercevic. Al diciottesimo c'è il raddoppio, bel dribbling di Schillaci che entra in aria, tira e c'è una deviazione del numero 4 Uvents, 2-0 per la Juventus. Al ventiduesimo da Casiraghi ad Esler che entra in aria e realizza il 3-0, bellissimo gol di Esler. In chiusura due perle di Baggio, una bella punizione e infine un bel dribbling con tiro finale al lato. Il primo tempo finisce 3-0, Juventus decisamente superiore al Liegi.